Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo light burn. Nel video di oggi andiamo a vedere l'ultimo upgrade che ho fatto al mio vecchio laser andando ad inserire dopo aver messo gli end stop e vi metto il video qua sopra di come li ho messi, di come ho messo l'air assist e vi metto il video qua di come funziona tutto, dopo aver messo la scheda madre nuova e vi metto anche questo, quindi praticamente sopra avete tre schede di tre video da andare a vedere. Oggi aggiungo anche il monitorino. Il monitorino che l'ho aggiunto, l'ho collegato alla scheda madre però con un piccolo escamotage anzi due. Prima ci ho fatto un case, mi sono fatto un progettino con light burn e ho praticamente costruito questo case per contenere il monitor e poi ho acquistato due cavi flat che, siccome questi che sono in dotazione con la scheda madre e con il tft il touch screen da 3,5 pollici che ho preso sono molto corti perché il mio laser alla scheda madre che è verso diciamo la parte posteriore della macchina e logicamente per manovrare il monitor ho dovuto utilizzare questi questi come si chiama flat ma li ho comprati su aliexpress molto più lunghi forse esagerato perché ce n'erano da un metro forse mi bastava e vabbè costano poco prendo da due metri non si sa mai volessi fare che ne sono un laser da due metri ho già pronto il tutto sto scherzando io adesso prima cosa se volete continuare a vedere il video iscrivetevi che ormai diventa tra poco diventerà obbligatorio l'iscrizione perché vedrete solamente se siete scritti non è vero ma iscrivetevi l'altra volta con l'appello dell'ultimo video siete stati veramente grandi mi avete dato una bella mano forza che voglio arrivare a qualche numero di più e nell'interesse non mio francamente no ma nell'interesse comune perché più mi stimolate e più cose faccio allora quindi iscrizione campanella il mi piace lo mettete in fondo se vi piace il video ok allora andiamo a vedere come funziona questo questo touchscreen vi dico subito che non è una cosa che rivoluziona forse è meglio ma questa scheda è bella perché la mks dlc 32 2.1 è bella perché vi consente il wifi vi consente il bluetooth e vi consente anche l'offline con andando ad importare il progetto su un sd card metterla nella scheda e poi potete farlo anche offline cioè non avendo il computer collegato e si fa il vedremo oggi in alcuni modi per farlo si fa con via via web col computer c'è anche una app per l'app farò un discorso a parte perché si collega però non voglio far diventare troppo affollato questo video come non farò in questo video non specificherò a chi non ha il monitor come utilizzare sempre il wifi perché sono modalità un po diverse e che possono valere anche per chi ha una scheda 32 sp 32 come la maggior parte dei laser moderni per andare a fare se volete il collegamento wifi con il vostro laser quello che mi raccomando è qui un bel danger pericolo va bene l'offline va bene il wifi va bene quello che volete ma non fate mai lavorare il laser in vostra assenza il laser può creare dei grossi incendi ci sono delle foto in giro per il web che sono veramente raccapriccianti adesso andiamo avanti con il video ecco questo è il tasterino di touchscreen e questo è il case che ho fatto con un piccolo progetto praticamente nel laser si fa le cose da solo ho acceso il laser e come vedete mi si apre con questa videata questa è l'ultima versione del firmware di maker base vado a connettermi con il wifi vedete lui va a cercare la rete questa è la mia rete quella che avete sopra wifi sotto e il numero di p che gli è stato assegnato torno indietro e a questo punto è connesso lo vedete in alto a sinistra di tutto connesso e posso andare a fare determinati controlli del laser come vedete lo sposto si vede in alto a sinistra dello schermo vediamo i movimenti del laser l'homing che è andato a buon fine faccio i vari movimenti e adesso andiamo a vedere anche i file da chiavetta usb eccola qua è una schedina micro sd a questo punto ho selezionato il file vedete mi faccio anche il frame una volta fatto il frame mi compare la videata dove potrei andare ad iniziare la lavorazione quindi praticamente in questo caso non confermo ma torno indietro perché non nemmeno materiale sul laser quindi queste grandi linee sono le funzionalità del del tastierino vediamo ora come vedete nello schermo c'è una videata iniziale di un di chrome va bene qualsiasi altro browser vado a mettere l'indirizzo che abbiamo visto prima sul nostro sul nostro tastierino poi spiegherò in un altro video come possiamo fare se non abbiamo un tastierino a vedere questi dati metto il numero che questo lo invio mi si collega e questa è l'interfaccia web del laser praticamente sul sul web vediamo che qui abbiamo control che questa schermata dove possiamo andare a muovere il laser io ce l'ho ai nomi che in questo momento lui si sta muovendo vedete sopra mi compaiono le i movimenti questo modo dove è andato a finire il laser poi abbiamo i settings che sono praticamente tutti i parametri dollaro che ha la scheda madre vedete si possono andare a modificare anche di qua e questo è abbastanza molto comodo le scritte sono in inglese spiegano a quali valori si riferiscono e vedete ci sono tutte le tutti i dollaro che servono per far muovere il laser sd file ecco questo è il diciamo l'elemento che io ho sul chiavetta sd in questo momento che non è altro che questa questo serve per fare un refresh della della cosa questa serve per andare magari a cercarli anche all'interno del computer altri file che devono essere in in inglese spiegano o gc cioè gcode oppure nc vanno bene comunque tutte e due e maker base riesce a lavorare in anche in questo modo quindi l'offline c'è anche una funzione di una di una app app avevo detto che ve lo facevo un'altra volta ve lo faccio vedere ora che magari faccio facciamo prima questo che vedete sul sullo schermo del mio cellulare che vi ripropongo qui a video è la app che maker base mette a disposizione si scarica dai vari play store e quindi sia sul telefonino come vedete le funzioni sono abbastanza scarne perché abbiamo movimentazione degli assi eccetera eccetera ma la prima cosa a fare andare a fare la connessione quindi vedete mi propone già quel numero in diciamo che abbiamo visto prima per la connessione via web faccio connetti la la macchina questo punto connessione riuscita si è connessa torna indietro e posso andare a fare il controllo come vedevamo prima con i movimenti degli assi quindi io vado a muovere il il laser che vedete che mi si incrementa lo diminuisce il numero di x ed y lento medio e veloce lo vediamo in fondo oppure posso andare a fare la creazione dei diciamo questa è una specie di libreria delle arti dove vado a mettere però veramente sembra quasi un giocattolino questa qua confronta lightboard c'è paragone possiamo andare anche a creare qualcosa ci mette a disposizione un mini schermo noi con possiamo andare a fare degli scarabocchi più di così secondo me non si può fare e come vedete vi dico le cose positive e le cose negative qui andiamo sul file ho anche ancora dentro il quel file che ho inserito sulla micro sd e questa è anche l'app allora utilità da 0 a 100 10 20 di questa utilità da 0 a 100 cioè proprio per gli amanti di chi ha sempre mano cellulare come me però non la userei mai per lavorare con il laser e a meno che non fossi costretto perché per fare queste cose potrei utilizzare il mio tastierino lb key che sicuramente è migliore sicuramente è più d'utile perché mi fa fare tante altre cose ma come ripeto quando lavora il laser dovete essere di fronte al laser magari con gli occhiali anche per la protezione che servono perché non si dovrebbe mai lasciare solo il laser per cui va bene il wifi va bene l'offline ma sempre vigilando sul laser una cosa un inciso ci sono delle funzionalità di light board che non sono state sviluppate proprio per scoraggiare questo tipo di lavorazione che può essere pericolosa e secondo me fanno veramente bene io vi saluto vi chiedo di rimettere un like se vi è piaciuto questo video mettere nei commenti se volete delle spiegazioni ulteriori se volete che approfondisco anche per altre cose questi argomenti e mi raccomando iscrizione 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 ne voglio almeno 20 il video scorso ne abbiamo raggiunto i 35 con un video questa volta ne voglio arrivare a 50 spero che vi piace l'argomento ciao a tutti e alla prossima grazie grazie